Salve community e bentornati nell'Effaverse. Se doveste sentire il ventilatore ci sono 45 gradi. Oggi mi trovo qui per parlare di un film incredibilmente scomodo, anche troppo per alcuni. Inutile dire che l'esagerazione fa ormai parte del web, ma vorrei soffermarmi meglio su tutta la faccenda e soprattutto analizzare la pellicola in sé senza troppi giri di parole. Insomma, Barbie mi è piaciuto? Sigla! Ho deciso che ne parlerò direttamente con spoiler. Ho bisogno di tenere il filo di certi ragionamenti, quindi ho deciso che parto direttamente a ruota libera. Quindi se non avete visto il film chiudete adesso. Barbie diretto da Greta Gerwig e scritto sia da Greta Gerwig che da Noah Baumbach ne aveva già conquistato sin dal primo teaser. Teaser che effettivamente è l'inizio del film con la citazione 2001 di Sea nello spazio che ho trovato geniale fin da subito. L'incipit è abbastanza semplice. Barbie, quella classica, quella proprio stereotipo, vive a Barbie Land, una società perfetta basata totalmente sul matriarcato dove i Ken esistono per vivere nell'ombra delle bambole che danno il nome al film. Ma la realtà superficiale della nostra protagonista, il suo intero stile di vita viene incrinato da una connessione con l'esterno che ne scaturisce un viaggio verso il mondo reale. Se avete visto il film sapete come procede. Lato tecnico, l'ho trovato delizioso. Ho trovato le scenografie piene di colori, le ho trovate molto belle e nonostante volessero essere finte, perché cavolo siamo a Barbie Land, è un asset che mi ha ricordato tanto l'elfo con protagonista Will Ferrell che qui troviamo tra l'altro come CEO della Mattel. Secondo me tra costumi e scenografia qualche nomination potrebbe arrivare tranquillamente. È una pellicola davvero divertente, non risparmia gag, riflessioni, battute taglienti e roba davvero fuori di testa. Il culmine lo si raggiunge durante la battaglia dei Ken che io lì stavo godendo, proprio stavo volando per sempre. Gli attori ci hanno creduto da matti, Margot Robbie è stata all'altezza del ruolo da protagonista, così come Ryan Gosling nei panni di Ken, che è praticamente talmente convinto che penso sarebbe impossibile fare di meglio. Le cose che dice, le cose che fa è completamente flippato. Capisco perché nelle prime reazioni ci si sia soffermati tanto su Gosling piuttosto che la Robby, anche se per me sono stati bravissimi entrambi. È una pellicola che secondo me sottolinea il divertimento liberatorio del cast che ci ha lavorato e traspare in più di un'occasione. Ovviamente non tutti i personaggi funzionano, è una pellicola che è superficiale in molti aspetti, c'è questo rapporto madre figlia che dovrebbe vedere il protagonista e Gloria e Sasha che non viene sviluppato particolarmente perché il film si concentra tutto sul personaggio di Barbie e anche quando, per esempio, nel secondo tempo stava rischiando di stagnarsi più di una volta. Ecco, quella cosa lì mi è mancata. Essendo che tutto nasce proprio da questo malessere emotivo del personaggio di Gloria che crea questa connessione con Barbie e quindi fa partire il film, avrei voluto che si lavora a sé tanto su cosa abbia portato a quel disagio emotivo, lo spiegano ok, ma soprattutto il ricongiungimento della figlia con la madre, che poi si ricongiungono ok, io personalmente avrei voluto qualcosa di più, poi sono soggettivo. Menziono anche la parte musicale che presenta delle tracce originali molto divertenti, molto orecchiabili e appunto la canzone dei Ken con tanto di... Niente, l'ho adorata. Giusto per chiarire, non è un film che vuole rivoluzionare nulla, non è perfetto, non tratta tutti i temi in modo efficace, spesso li ingarpuglia e spesso li salta a pie pari. Ho lamentato anch'io un acceleratore premuto al massimo sin dai primi minuti con queste frasi decontestualizzate a caso e pensavo di sorbirmi due ore di film così. Per quel che mi riguarda questa cosa non succede. Ripeto, alcune cose sono portate in modo maldestro, ma non stiamo parlando di un disastro. Ho accusato anch'io il film di essere didascalico, ma non penso che sia una critica su cui io possa appoggiarmi per distruggere l'intera operazione. In fondo è una pellicola che abbraccia un target soprattutto giovanile e che deve parlare un linguaggio universale. Io che campo anche di cinecomic, togliendo The Batman l'anno scorso, praticamente ho avuto un anno dove non posso meravigliarmi della didascalia, soprattutto dopo una scorpacciata di temi imboccati col cucchiaio da parte di Marvel e DC. È giusto dire che alcune cose ho fatto fatica ad accettarle perché Margot Robbie è presente in tutte le scene, in tutte le due ore, quindi alcune cose un pochino... ok. Comunque, a mio avviso, al mostrarti consapevole di certe cose, non ti autorizza ad essere necessariamente libero di poterlo fare. Cioè, per me non è furbizia. La stessa Gerwig comunque ogni tanto indugia sulle forme di Margot Robbie come una novella Patty Jenkins con Wonder Woman. Ma perché tutto quest'odio? È davvero un film che merita una reazione così violenta da chi non l'ho apprezzato? Io credo che l'errore più grande che si possa fare fruendo di Barbie sia quello di guardare un qualcosa che necessariamente debba spociare in tifoserie e schieramenti. Un errore che nei primi 20 minuti stavo facendo anch'io. Finché non mi sono soffermato sul personaggio di Ken e allora ho cominciato a vedere qualcosa di più. Barbie non è un film prettamente femminista. Smontare il patriarcato non lo rende necessariamente nazi femminista. Soprattutto se si sta dicendo comunque la verità. Cioè, se poi la verità dà fastidio è un altro paio di maniche. Quello che ho visto io non è l'ennesimo prodotto che vuole a tutti i costi sottolineare le differenze in questa bilancia dove agli opposti si trovano donne e uomini. Barbie presenta due protagonisti alla disperata ricerca della propria identità. In quella perfetta vita a Barbie Land c'è tantissima superficie e niente di più. È una sorta di Pleasanceville, priva dell'unica caratteristica che dovrebbe renderci umani. L'umanità, appunto. Barbie viene destabilizzata da una donna che si trova in un momento di difficoltà emotiva. Questo porta ad intraprendere un viaggio alla scoperta di se stessa, di quello che vuole davvero, perché fino a quel momento era Barbie stereotipo. Punto. Da questa parte abbiamo Ken. Ken non ha nessuno scopo se non la spiaggia. Lui stesso lo ripete come quasi a voler convincersi che abbia un senso, ma in realtà non ce l'ha. Che cazzo significa la spiaggia? È anche lui nato come stereotipo in una società che non lo considera. Barbie Land è la realtà al contrario. Ken pensava che la sua unica ragione di vita fosse stare ai piedi di questa donna senza nemmeno chiedersi il perché. Senza capire il motivo per cui quell'asset lo portasse a provare così tanta frustrazione. Quando non sai chi sei e vivi in una società frustrante, necessiti di una condizione che possa aiutare ad uniformarti e possibilmente scardinare quella frustrazione. Porta il patriarcato a Barbie Land semplicemente perché pensava di riuscire a colmare il suo vuoto. Un estremo opposto che comunque non lo fa stare bene. È una cosa che ammette lui stesso. Quando pensavo che avesse poco a che fare con i cavalli già l'ho visto meno interessante. Perché nemmeno voleva abbracciarlo. Quando si comporta male con Barbie sta male. Ovviamente tutto reso in maniera scherzosa, ma tant'è. Gli estremi di qualunque tipo sono il male. Nel bellissimo dialogo che vede i due protagonisti verso la fine si comprende finalmente quanto possiamo e dobbiamo essere liberi di essere chi vogliamo. Non saranno degli stilemi basati dalla società malata in cui siamo cresciuti a dettare la nostra personalità. Io stesso sono cresciuto in un ambiente dove il patriarcato ha normalizzato le peggiori schifezze. Quanta gente sensibile preferisce uniformarsi a certe idee che non vorrebbero abbracciare per essere accettati piuttosto che ergersi contro di essi con la paura di essere etichettati come strambi o peggio? La pellicola parla maldestramente della ricerca dell'identità e lo fa lanciando una frecciata bella tosta ad una condizione che permette ai bidelli di palpare delle minorenni e non essere perseguiti dalla legge perché fino a dieci secondi non è reato. Ma ci rendiamo conto? Ovviamente se nel farlo induge a qualche pippone femminista, ma perché dovrei scandalizzarmi? Perché questo sbilanciamento debba risultare così fastidiosa in cento anni e passa di cinema dove le donne sono state dipinte in un modo molto ben preciso e squallido? Certe critiche mosse così violentemente nei confronti di un film innocuo e divertente su tanti punti di vista denota dei meccanismi inconsci su cui la gente dovrebbe cominciare a farci conti. Credo sia ora. Nascondersi dietro la critica del didascalico non giustifica tale accanimento. Ma mai nella vita? Non ti piace? Amen. Se ne può discutere tranquillamente. Lamentarsi dei pipponi del film facendo a propria volta dei pipponi sul perché non piacciono i pipponi sul patriarcato è paradossale. È un contropippone. Se poi ci si lamenta di quanto siamo offesi perché gli uomini in questo film sono dipinti come imbecilli, dico semplicemente che 1. La storia del cinema racconta intere epoche dove tutte le donne erano delle stupide e servivano solo per una cosa. 2. Non per qualcosa ma da uomo posso assolutamente affermare senza nessun dubbio che la maggior parte degli uomini medi sono degli attrezzi. Minchia se lo sono. Di certo al personaggio di America Ferrera non gli sarebbero venuti in mente dei pensieri di morte se avesse avuto un uomo migliore accanto che si sarebbe interessato della sua precisa condizione psicologica. O sbaglio? Meditate. Nota a margine non ho sentito ancora nessuno che era prevenuto su questo film prima ancora dell'uscita e che alla fine dopo averlo visto è uscito dalla sala contento. Se ci siete per favore palesatevi nei commenti. Per andare verso la chiusura io vi dico andate a vedere Barbie e fatevi due risate. Riflettete sulle cose importanti su cui davvero si deve riflettere e non cercate a tutti i costi la divisione. Che alla fine della fiera il film vuole solo ricordarci che dobbiamo smetterla di essere solo donne e solo uomini e ricordarci di essere semplicemente umani. Non lo fa benissimo ma chi se ne frega io mi ci sono divertito un botto. Molto bene questa recensione barra riflessione finisce qui. Ovviamente vi chiedo di dirmi cosa ne pensate. Vi chiedo anche di restare civili nelle argomentazioni anche perché certe argomentazioni maschili che soffrono la minaccia di un film così innocuo e semplice mi sembrano davvero deleterie. Preferisco la costruttività. Io per primo ho cercato di evidenziare pregi e difetti come se fosse qualsiasi altro film. Quindi non infastiditevi oltremodo se piace o viceversa. Io vi chiedo un like se questa recensione vi è piaciuta. Vi chiedo di iscrivervi al canale, di seguirmi su Instagram per restare aggiornati. Vi ricordo che qui sono aperti gli abbonamenti. Ci vediamo su Twitch, in live, tra scoop e robe varie. Vi ricordo anche la collaborazione con Pampling. Qua sotto trovate tutto il necessario, tutte le informazioni. Ricordatevi codice F41 e vi portate a casa le calze gratis. Detto questo io vi ringrazio sempre per tutto il supporto e l'affetto e ci rivediamo con un prossimo video. Filippo F chiude.